La nostra azienda è in grado di smaltire i rifiuti che la sua fabbrica produce in un anno? 800 tonnellate. 800 tonnellate. 200 tonnellate. 500 tonnellate. Vincendo la gretta per l'ulta, non cedere a tutti. Rimano a mezz'escalo, dopo un minuto, senza valutio. Vittima! 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 Vittima, vittima, vittima! Vittima, vittima, vittima! Il cromo, la mianda, non l'ho creato io. I mondani non mi sono mangiato io. Funziona così. Funziona così. Funziona così.